E' importante tornare incessantemente sulla verifica della vostra preghiera del cuore, perché vi dico subito che la preghiera del cuore sta poco a deteriorarsi, adesso è cominciata, ma fra un mese sarà un po' deteriorata la vostra preghiera del cuore, slitterà, slitterà. Voglio insegnarvi la verifica per controllare la validità della vostra preghiera del cuore. Secondo me, tre test, la preghiera del cuore deve rispondere a questi tre test. Sono ben presente a Dio, sono stato ben presente a Dio, presente all'eterno presente in me. Secondo, il centro della mia preghiera è stato Lui o sono stato io? E' stato Lui o sono stati i miei problemi? Nella preghiera del cuore il centro è Lui e io devo sempre orientarmi a Lui. Terzo, il mio stare con Lui è stato veramente un amare e l'amare è legato a delle decisioni concrete, niente di più concreto che la preghiera del cuore. E' un bisturì da chirurgo che vi taglia qualunque bubbone, vi fa uscire tutto il marciume la preghiera del cuore. Per questo è tanto prezioso. E' la pinza che fa uscire il marciume. Perché? Perché deve sempre verificarsi se amo, se amo, se amo e amo se io decido di amare. Amo se voglio amare. L'amore sta nei fatti, non nelle chiacchiere. E i fatti cominciano dalle decisioni. E io devo verificare se è maturata nella mia preghiera del cuore qualche decisione vera, concreta, che ha tirato fuori il ragno dal buco. Ecco, a me sembra, con quei tre test, voi quando vedrete che la vostra preghiera si deteriora, potete ritornare sui vostri passi, interrogarvi come sta andando la mia preghiera del cuore. Sono presente a Dio? Il centro della preghiera è Lui o sono io con i miei problemi? Terzo, mi sforzo di amare quando sono lì con Lui? Di qui si comprende che la preghiera del cuore non è facile quando la mente è molto stanca, o il cuore è molto agitato. Occorre vigilare sulla calma e lo sforzo calmo che vince la resistenza alla preghiera del cuore. La preghiera del cuore dà le più grandi gioie dell'intimità con Dio, ma non sempre il nostro intimo è pronto. Per esempio, se avete un grosso dispiacere, probabilmente non riuscite a fare la preghiera del cuore. Per esempio, se avete un grande tormento, per esempio se siete molto stanchi, per esempio se non state bene, e allora scegliete un'altra forma di preghiera, per esempio il ringraziamento. Il ringraziamento va bene per tutte le situazioni di salute. Il ringraziamento va bene per tutti gli stati d'anima, ma la preghiera del cuore va fatta nel momento in cui la mente è più libera, la concentrazione è più facile, perché si tratta di scendere nel più profondo di voi stessi. Non è facile, non è facile. Se dentro di voi mille cose vi strappano da questo lavoro. Se mi date ancora un po' di tempo, io passerei alla terza palestra, perché così guadagniamo poi nel parlare sul sacramento della riconciliazione. Doveva essere la terza lezione sulla preghiera del cuore, ma l'anticipo adesso, poi continuerò un poco dopo. La terza tappa della preghiera del cuore, direi la terza palestra per esercitarci nella preghiera del cuore, la formulerei con queste parole, comunicare amore. Prima tappa, amare. Seconda tappa, lasciarti amare. Terza tappa, comunicare amore. Ecco, adesso mi sto arrabbiando con me stesso contro questo pensiero molesto. Sto pensando, sta a vedere che adesso qualcuno pensa che la preghiera del cuore è una cosa faticosa, organizzativa, fatta di tecnica, non è nessuna tecnica, è soltanto che tu ami sul serio il Signore e basta. E puoi amare anche con le cose più stravaganti, purché lo ami. Noi abbiamo a Genova una fraternità nel mondo della malavita, in mezzo alle ambienti omosessuali. E i vicoli della malavita di Genova, chi li conosce, sono le cose più orribili che esistono in Italia. Ogni uscio c'è la luce rossa. Soltanto un uscio c'è la luce azzurra, la luce del Santissimo che brilla nella nostra fraternità. Dio che è arrivato in mezzo a quella sporcizia. E allora nella nostra cappellina, di tanto in tanto, entrano questi prostituti, questi omosessuali, questi travestiti. E quel che fa pena in quella fraternità sono i bambini. Oh, i bambini sono una desolazione. E l'altro giorno una sorella mi ha raccontato che c'è un bambino tanto vivace che lei li raduna per fare un po' di catechismo, per preservarli dieci minuti dal male. Allora lo porta nella cappella e lo fa pregare con gli altri bambini. E questo qui, che è vivacissimo, sembra tutto sale e pepe, a un certo momento dice alla sorella ma sorella, mi lascia dare una gioia a Gesù? E lei non immaginava cosa volesse essere sta gioia a Gesù. Guardi, allora prende la rincorsa e fa il salto mortale e si mette con la testa in giù e le gambe in su davanti al Santissimo. La testa in giù e le gambe in su. E la sorella non sa cosa fare, se farla scandalizzata o tirarlo giù. Comunque, comunque dopo un po' si rappacifica con la coscienza e gli dice hai fatto bene. Perché la cosa più bella che lui voleva fare, che lui sapeva fare, era quella lì. E lui ha fatto quella lì. ha fatto la sua preghiera del cuore. La testa in giù e le gambe in su. Vi raccomando di mai fare così la preghiera del cuore. Però vi dico che la preghiera del cuore si adatta a tutto e si fa con tutto. Si fa chiedendo perdono, si fa ringraziando, si fa con tutto purché entriate in una profonda sincerità con Dio, in un'assoluta autenticità di amore con Lui, purché ci sia proprio l'amore. Ecco allora, non pensate che la preghiera del cuore sia una cosa complicata. È la cosa più semplice di questo mondo. Anzi, oserei dire, è difficile perché è troppo semplice. E' difficile perché è troppo semplice. Dunque, quando Gesù fa la grande preghiera sacerdotale all'ultima cena, che cosa fa? Fa una grandiosa preghiera del cuore. E con me la sua preghiera del cuore è un irradiamento di amore su tutta l'umanità. Ha pregato anche per noi qui a Colle Valenza. E sì, perché ha detto prego per quelli che crederanno per la vostra parola. Ha pregato anche per noi. Un irradiamento di amore su tutta la terra. Ecco, sull'esempio di Gesù, la nostra preghiera del cuore, ad un certo momento, ha bisogno di sfondare gli orizzonti dell'amore. Ha bisogno di comunicare amore, versare amore su tutti. Che Dio sia tutto in tutti, dice Paolo ai Corinti. E allora la preghiera del cuore, come fa a comunicare amore? Io ho scoperto una parola che racchiude proprio tutto, che comunica proprio l'amore nel modo profondo. prima di tutto lo faccio su di me, poi lo faccio su tutti. Questa preghiera, Gesù, dammi il tuo cuore. Quando voi pregate così, voi abbracciate veramente tutto. Cosa potete chiedere di più di questo? Gesù, dammi il tuo cuore. E sono contento che il Signore mi ha portato con le valenze, perché ho fatto tanti pellegrinaggi sulla tomba di Madre Speranza, a chiedere di essere capace a fare bene questa preghiera. Gesù, dammi il tuo cuore. Quando voi volete chiedere una cosa per una persona, se voi chiedete questo, voi chiedete proprio assolutamente tutto. E com'è bello che c'è anche nella liturgia, nella quinta preghiera eucaristica, la liturgia fa pregare. Padre, donaci lo spirito dell'amore, donaci lo spirito del tuo figlio, cioè dammi il cuore di Cristo. Non è possibile chiedere di più di questo. Quando nel silenzio della preghiera del cuore noi chiediamo il cuore di Cristo, noi offriamo a Cristo l'omaggio di amore più grande. Come se dicessimo con Pietro, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Dammi il tuo cuore. Occorre farlo proprio con audacia. Quel santo medievale che vi ho citato, Guglielmo di Saint Henry, diceva non otteniamo cose grandi da Dio finché non osiamo chiedere cose grandi a Dio. Non otteniamo cose grandi perché non chiediamo cose grandi. Questa è la cosa massima da chiedere, perché qui c'è tutto. Dovete chiederlo sulle persone che amate. Dovete chiederlo sulle persone affidate a voi. Dovete chiederlo sulle persone che non amate. Dovete chiederlo per i vostri responsabili. Dovete chiederlo per i responsabili della Chiesa. Io al Papa do solo questo. Tutti i giorni e tante volte chiedo. Donagli, Gesù, donagli il tuo cuore. Donagli il tuo cuore. E quando leggo i suoi discorsi e mi capita ma guarda cosa ha detto. Ah, già, tu hai chiesto, dagli il tuo cuore. Ma per forza, se al cuore di Cristo dice queste parole. Dovete farlo su tutti. Prima di tutto su di voi. Prima di tutto su di voi. Dammi il tuo cuore. Perché questo è amare. Io ho imparato un'altra furbizia che se io chiedo così vagamente aggrappo la mia preghiera alle nuvole. Io ho imparato invece a pregare così. Gesù, dammi il tuo cuore fino alla prossima adorazione. Poi dopo ci penso io. Cioè, te lo chiedo un'altra volta. Solo fino alla prossima adorazione, Signore. Stamattina quando ho fatto l'adorazione ho detto, Gesù, dammi il tuo cuore solo fino alle dieci e mezza. Le dieci e mezza ci pensarò io. Ma fino alle dieci e mezza il tuo cuore. E poi, quando l'avete fatto molto per voi e precisando bene così, se martellate così, vi succederà che a un certo momento voi entrate in un intoppo di un'azione in cui deve scattare il cuore di Cristo. ecco, non so, c'è un povero lì davanti. Se non avete il cuore di Cristo voi fate come alla parabola del samaritano. Fate finta di... e filate di rito. Se avete il cuore di Cristo no, no, vi fermate. E tutti i momenti, pregando così, vi succede che poi controllate il cuore, controllate le azioni, controllate i vostri impatti con i vostri egoismi. perché avete chiesto il cuore di Cristo e l'avete chiesto ora per ora, giorno per giorno. Questo vi rende proprio di una sensibilità particolare alla carità di Cristo. E poi dovete farlo per gli altri, in grande. E chiedendo il cuore di Cristo voi chiedete tutto, chiedete tutto. E dovete farlo sui nemici. Io una volta pensavo di non avere dei nemici. Poi facendo la preghiera del cuore ho detto no, 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 ce ne due. Allora comincia a pregare per questi due e chiedevo tutti i giorni questo, perché questo è dare il massimo a un nemico, Signore, benedicilo, donagli il tuo cuore. È dare il massimo a un nemico. E poi dopo un po' i due sono diventati quattro. E dopo sono diventati dieci. E dopo ho scoperto che ne avevo venticinque. E la passo brutta quando devo fare la preghiera del cuore effondendo amore, perché per arrivare a venticinque persone ce ne vuole del tempo. Ma vedeste com'è liberante pregare per i propri nemici, chiedere per i propri nemici la benedizione di Dio. Che Dio scenda e che Gesù comunichi il suo cuore, cioè la profondità del suo amore a quella persona nemica. Vi rende proprio liberi, vi rende proprio liberi. Vi rende felici, vi rende felici, vi rende persone realizzate, perché potete guardare limpidamente negli occhi tutti. Anche i vostri ricordi si mettono a posto. perché sistemate il passato dimenticando, pregando così per i vostri nemici e allarga proprio il cuore. E voi vi formate proprio un cuore nuovo, modellato sul cuore di Cristo. quel santo monaco del monte Athos, Serafino di Sarof, diceva così quando quando si prega e si ama il nemico, quello è il segno che si è ricevuto lo Spirito Santo. Quando io non ho più barriere col mio nemico, ho proprio ricevuto lo Spirito Santo. Nel mio cuore c'è lo Spirito Santo. e non vi sembra, lo dico a voi preti, non vi sembra che noi siamo molto vigliacchi nella nostra predicazione. Nelle altre truffe che abbiamo fatto a Gesù c'è questa. Noi non non predichiamo sull'amore ai nemici, non predichiamo abbastanza. Provate un po' a chiedervi in questo mese quante volte avete predicato l'amore ai nemici. Chiedetevi un po' in questo anno se l'avete fatto una volta. Lo consideriamo ed è una caratteristica del cristianesimo. Dunque, in una cosa essenziale del cristianesimo noi preti non abbiamo annunciato. Noi abbiamo tradito l'annuncio di Cristo e Gesù ci chiede di insegnare a amare i nemici. E io credo nella Chiesa ci sarebbero meno pasticci se noi preti predicassimo di più l'amore ai nemici. Perché se lo predichiamo agli altri siamo obbligati noi. Siamo obbligati noi a buttare i ponti se predichiamo tanto l'amore ai nemici. Perché la gente sta poco a dirci ma ehi signor paroco ma lei non ha quel confratello di cui dice sempre male? E allora avanti cominci lei. Stam poco a buttare in faccia un'accusa così. Se predichiamo molto l'amore ai nemici noi figliamo diritto e allora è proprio segno che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Ecco e allora chiedete il cuore di Cristo per i nemici e chiedetelo per i grandi responsabili dei problemi mondiali perché non possiamo lavarci le mani nemmeno con Gorbaciov con Gorbaciov e Reagan. Anche Gorbaciov deve entrare nella vostra preghiera nella vostra preghiera del cuore sì signore a un certo momento quando chiedete il cuore di Cristo provate un po' a dire signore per favore un pezzettino di cuore di Cristo anche per Gorbaciov ma prima di tutto il cuore di Cristo per me fino alla prossima adorazione poi dopo ci penso a chiederlo un'altra volta ma un pezzettino di cuore di Cristo anche per Reagan per questo benedetto problema per Khomeini per la pace in Iran e poi quando vedete che Gorbaciov fa un atto di buona volontà voi dite ah ecco io avevo chiesto un pezzetto del cuore di Cristo e questo vi fa coraggio e vi anima a pregare per i responsabili dei problemi mondiali andiamo finito beh